L'enigma della corona di Carlo III, intanto io ve la mostro e vado subito dal dottor Fiorentino Vecchiarelli, presidente dell'Accademia dei Doiosi. Allora Fiorentino intanto un grande evento ad Avellino per la prima ed unica volta. Certamente, un grandissimo evento per la nostra città, avere qui nella sala messale della Villa la corona di Carlo III di Borbone, che pensate, il professor Cibo Polillo, diciamo un gemmologo di fama internazionale, docente alla Sapienza di Roma, ha impiegato 3500 ore per ricostruirla, identica in ogni singolo dettaglio come quella originale che purtroppo è andata rispersa. Quindi è un'emozione grandissima trovarci davanti a questo gioiello preziosissimo ed è un'opportunità che noi vogliamo offrire non solo ai soci dell'Accademia ma a tutta la città di Avellino.